Ricordo in uno dei miei tanti incontri New Yorkesi con il professor Joseph Tussiani che molti di voi conosceranno, nostro conterraneo ma ormai in America da una vita grande poeta, grande traduttore ha tradotto i poeti latini in inglese una persona di cultura ma una persona umile un grande educatore potrei dire bene, in uno di questi incontri Tussiani mi disse e mi raccontò che quando insegnava più di qualche alunno tendeva a chiamarlo per nome ma lui si rigidiva e diceva no, io sono il professor Tussiani lì per lì mi sembrò una contraddizione con l'idea di una persona umile che io avevo e ho ma poi ho compreso che cosa voleva dire quella parola e con questo esempio vorrei oggi introdurre qualche piccola riflessione e provocazione sull'altro elemento che bisogna evitare nell'educare e nell'educare alla felicità il buonismo la bontà educa il buonismo no troppa dolcezza, troppa condiscendenza troppa libertà non educa nessuno padre Emiliano Antenucci nel suo libro che ho citato più volte proprio a proposito del buonismo dice che se nel rigidismo Dio non ci vuole soldati ma figli con il buonismo e nel buonismo noi dobbiamo comprendere che Dio non ci vuole dei diabetici tra virgolette perché troppi zuccheri fanno male è vero troppi zuccheri fanno male che cosa provoca il buonismo? il buonismo anzitutto è una incapacità educativa pedagogica di colui che dovrebbe educare l'educatore è colui che sa dire sì e sa dire no cioè l'educatore è colui tanto per usare una immagine diffusa chiara che tutti capiamo che sa usare il bastone e la carota il bastone quando serve dare sicurezza quando serve incoraggiare quando serve a indicare la strada e a togliere gli ostacoli della strada la carota perché la persona ha bisogno di consolazione ha bisogno di tenerezza la carota ha bisogno di carezza quindi consolazione carota e fermezza autorevolezza nell'immagine appunto del bastone e della carota come l'immagine di un educatore autorevole e che sa incidere nel cuore io vi aspetto domani Padre Pia TV Dritto al Cuore ciao a tutti grazie a tutti grazie a tutti Autore dei sorrisi